Allora, non mancava che Cospace all'appello. Per Cospace però il problema è leggermente più complicato perché occorre passare da Blender per poter trasformare il nostro oggetto che è scaricato da Sketchfab e un GLB di solito, dobbiamo trasformarlo in un FBX ad esempio che viene supportato da Cospace. Cospace non supporta il formato GLB. Quindi sono entrato dentro Blender e ho tirato giù il GLB che avevamo preso da Sketchfab e tra l'altro già si capisce perché prima aveva avuto dei problemi nel senso che quando lo portavamo in Spacerle, in Mozilla Hubs e in altri compriva sempre un pochino chissà dove. In realtà dovete fare i vostri modelli quando siete in Blender che avendo il centro laggiù oppure magari è proprio Sketchfab che fa questo tipo di elaborazione strana però suppongo che in realtà sia stato in origine spostato. Quando ce l'avete in Blender dovete in qualche modo selezionare Sketchfab Model e poi dite Select Hierarchy in modo tale da averlo tutto selezionato e poi fate Find, Export e gli dite di esportarlo ad esempio come FBX. Come FBX fate poi attenzione che quando lo esportate come FBX dovete esportare soltanto i Selected Objects. Il Path Mode tipicamente del FBX deve essere Copy e questo anche. quindi praticamente copiate le texture praticamente e le embeddate in modo tale che sia tutto autocontenuto Selected Objects, soltanto quello che volete e a questo punto potete esportarla come boschetto chiamarlo boschetto 1.fbx facendo in questo modo siete sicuri di avere praticamente un abbiamo messo sotto Documents quindi abbiamo Date Modified abbiamo boschetto 1 vedete che è leggermente più piccolo dell'altro che avevo esportato prima quindi siamo un pochino più grossi perché il formato FBX non è ottimizzato come il GLB ma è questo è la parte sostanzialmente più difficile però se partite da Blender è più facile perché potete esportare direttamente in formato FBX a questo punto andate praticamente nel Cospace che avete ci avete varie possibilità andate nei Cospace create un Cospace con un Empty Scene è una scena vuota in questa scena vuota vedete che assomiglia a quella che abbiamo visto in Spatial o in Mozilla Hubs o in FrameVR e qui abbiamo la possibilità di fare l'upload di un nostro oggetto in particolar modo di un 3D Models facciamo upload e qui gli mettiamo Documents e gli mettiamo il boschetto 1.fbx ed essendo low poly probabilmente ce la fa a tirarlo su in fretta successfully uploaded perché è velocissimo got it ce l'abbiamo il boschetto 1 lo possiamo prendere e lo mettiamo nella nostra scena e vedete qui abbiamo il problema grosso che abbiamo visto l'altra volta e cioè che compare non dove siamo noi ma sopra perché era messo male ma comunque poco male lo modifichiamo sempre con queste cose frecce praticamente lo tocchiamo lo spostiamo lo mettiamo in modo tale che il nostro mino accompagni in un posto che abbia un senso e eventualmente lo mettiamo più basso di così non si può perché non si può lo mino però possiamo mettere un filo più alto ecco e a questo punto in realtà è già pronta la cosa possiamo salvare il nostro progettino e soprattutto possiamo fare il play per vedere come funziona quindi a questo punto sapete come fare un progetto con space questo qui è già un progetto con space niente fate semplicemente il play di questo oggetto qua e quindi vedete che entro dentro e sono già dentro e quindi con W posso entrare e posso fare esattamente quello che facevo con tutti gli altri sistemi ecco quello che forse a prima vista sembra la luce forse bisognerà aggiungere delle luci nella scena però fondamentalmente noi ci siamo quindi questa cosa qua se vogliamo poi condividere con qualcun altro adesso praticamente sono faccio la undo di questo spostamento ok fate lo share di questo allora non è condiviso quindi facciamo lo share facciamo lo share unlisted in modo tale da name facciamo un boschetto e descrizione quello che vogliamo share unlisted e quindi abbiamo vedete il boschetto fatto da Claudio Brachiega che sono io e quando lo condividete vedete che c'è questa sequenza F U P G U W U che credo che lo faccia vedere anche così vedete F U P G U W U fate copia copia il tuo clipboard facciamo F U P G U W U T E G C I W U W Y A U W Y A U W U U T N L'unico problemuccio di Cospace è che qui se entro, entro da solo, non ho l'interattività con le altre persone. Mentre invece con Mozilla Hubs, Space, Spatial o FrameVR, questa interattività è garantita e quindi possono anche condividerla a più persone. Direi che è tutto anche con Cospace, fatemi sapere se ci sono dei problemi particolari. Buon giorno.